mi piace la televisione anche come elettrodomestico il fruscio di quando si accende e lo sfrigolio con cui si spegne dopo che è stata accesa parecchio come una cenere elettronica che si posa sullo schermo o come un glande che appassisce dopo aver fatto il suo dovere la guardo in media per 5-6 ore al giorno filtrati dalle pareti di questa casa scatolare sento gli altri apparecchi funzionare oltre al mio siamo una comunità siamo in regola